Ristorazione dai carabinieri raffiche di denuncia a Belvedere fioccano sanzioni per 62.440 euro. Proseguono i controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa in sinergia con l'arma territoriale di Belvedere e frazione di Siracusa coaduanti dagli ispettori INL distaccati in Sicilia della scorsa estate presso il Dipartimento Generale del Lavoro siciliano per verificare il rispetto delle normative gius lavoristiche e sull'applicazione delle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione all'intermediazione illecita e al sfruttamento del lavoro. A finire sotto la lente di ingrandimento nei giorni scorsi sono state due imprese nel settore della ristorazione a seguito di accurate verifiche miranti e accessi ispettivi presso quelle aziende anche al fine di contrastare lo sfruttamento del lavoro che nasce dallo stato di bisogno proveniente da alcune fasce dei cittadini più deboli i carabinieri specializzati nella tutela del lavoro hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica tre imprenditori ritenuti responsabili di non aver opportunamente vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri tra le violazioni in materia di lavoro più ricorrenti sono state rilevate gravi violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro in nero e sfruttamento del lavoro. Nel corso delle ispezioni effettuate è stata accertata la presenza di otto lavoratori in nero su un totale di 15 inoltre i militari hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica un lavoratore extracomunitario clandestino ritenuto responsabile di essersi trattenuto all'interno dello Stato italiano senza permesso di soggiorno. Nei confronti del detto lavoratore straniero è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano. Sono state combinate quattro ammende pari a 33.033 euro e elevate sanzioni amministrative per un totale di 62.440 euro. Nei confronti di entrambe le aziende controllate si è provveduto anche ad adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per grave violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e per l'impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro impedendo così alle ditte di continuare a lavorare in circostanze di massimo pericolo per la sicurezza dei propri lavoratori dipendenti.